Allora, ascolta, io volevo, a parte voglio farti vedere, ho appena arrivato su Amazon, mi sono preso le cuffie per l'allenamento per le Ultrafax, perché c'è la musica a palla. Sì, ma sono quelle anti-infortunistiche. Ma sì, ma che ne so, ho preso il primo pacco che ho trovato su Amazon, non so perché. Sì, sì, sì. No, beh, a me sinceramente non servono, anzi mi piace sentire un po' di sottofondo i rumori, quindi non ho bisogno di avere questi trucchettini, riesco proprio a isolarmi completamente. Quando faccio il sito, anche se c'è qualcuno vicino che parla, mi isolo perfettamente. Facilmente. E appunto, come sai, odio avere le cuffie perché non mi permette di sentirmi. Mentre prima, i primi anni, cuffioni, musica a palla, motivazione, 100%, dopo ho provato a toglierle ed effettivamente mi ha cambiato, mi ha svoltato proprio l'allenamento. Quindi diventa un allenamento molto più intimo, dove senti il tuo respiro, dove senti il tuo affanno, dove senti le tue urla, senti il ferro che sbatte per terra, la macchina che sbatte. Insomma, è un insieme di tante cose che ti permettono di capire come stai facendo il set. Questo sì. Quindi da allora l'ho tolto e praticamente le cuffie sono solo per il cardio, proprio per, insomma, per non annoiarmi completamente, quindi un po' di cuffie solo in quel momento lì. Ah, vedi, se riesco a trovare o che abbassano il volume oppure che trovo un'altra palestra in cui c'è il volume basso-basso della musica. Sì, guarda, ti dico, in Svizzera addirittura è fin troppo basso, proprio, anzi, addirittura alcune volte è anche spento. E questo in realtà mi ha dato anche dei problemi perché facendo un po' di versi, un po' di rumori, la gente si lamentavano. Proprio perché non c'era il rumore che mi copriva. Quindi, insomma, è stata un po' una tragedia lì. Mentre in Italia il volume è anche abbastanza palla, quindi c'è sta... Allora, ascolta, volevamo appunto fare questa chiacchierata su diversi stretti muscolari, perché volevo dare un po' ai ragazzi tanti spunti da poter utilizzare su appunto diversi stretti, come allenarli, eccetera, eccetera. Quindi volevo fare una... Io quello che ti posso riportare oggi è semplicemente la mia esperienza nel mio piccolo. Sì, quello volevo, quello volevo. Non farò un trattato scientifico alla Nippard per dire come sviluppare meglio le certe cose. Più che altro mi limiterò a riportare quello che io ho fatto e quello che su di me o su mia moglie ho visto funzionare. Esatto. Ma sì, sai che c'è che, alla fine ho visto che di scienza se ne può fare veramente tanta, nel senso che ci sono un sacco di idee, cose anatomiche, ragionamenti, quello che ti pare. Però poi alla fine è la pratica sul campo che ti dà tanto e ti permette di capire come gestirti. Assolutamente. No, chiaro, una base, una base secondo me ti ci vuole sempre, però poi devi saper unire la base, trapolarla su di te. Quindi sapere cosa potrebbe funzionare, cosa non potrebbe funzionare sulla carta e poi provare. Purtroppo questo sport è tanto tanto trial and error, quindi una cosa può funzionare per me, una cosa può funzionare per te e per me non può funzionare, capisci? Quindi è proprio un lavoro che devi fare su te stesso nel corso degli anni. Esatto. Sottolineo anni, non giorni, settimane, mesi, ma anni. Devi stare là. Anche perché la cosa è che noi ci conosciamo, credo, quasi cinque anni, quattro anni. Eh, ormai sono cinque anni, sì. Sì, sì, e abbiamo passato un sacco di periodi, mi ricordo quando l'ho conosciuto, avevi volumi altissimi, super denso, tanti cluster set. Poi le abbiamo provate tante e la cosa che mi piace da morire... Le abbiamo provate tutte, le abbiamo provate tutte, penso, ormai. Esatto. No, la cosa che mi piace da morire tua è proprio che hai sperimentato di tutto, hai individuato, cioè passi, sperimenti, ti ci chiudi, poi cambi, ragioni. Sì, sì, assolutamente. Una cosa molto importante, almeno su di me, ho visto, è il cambio. Come dico sempre, saper cambiare le carte in tavola, perché altrimenti il corpo non lo freghi. Quindi devi sapere cambiare le carte dopo un certo periodo dove vedi che le cose cominciano un pochettino a stallare o a, insomma, fai fatica ad avere quel miglioramento. Prima di due settimane, tre settimane, cacchio, figato, ho trovato il metodo che funziona. Poi di che vedi che cominci e direi, ma no, però cacchio così non funziona più, non lo sento più, insomma, va cambiato. Quindi la capacità è quella di saper cambiare nel corso d'opera le carte e fregarlo, cercare di fregarlo, evitando che si adatti troppo. Esatto. E come ti stai allenando adesso? Guarda, sinceramente adesso sono in una fase abbastanza libera, nel senso che non ho troppa frenesia nell'allenamento, quindi me la godo. Vado in sala, chiaramente ho sempre il mio pezzetto di carta scritto che preparo. Vado in sala, sto facendo molti piramidali e molti ramping. Quindi il piramidale sul primo esercizio perché mi permette di salire col peso man mano, scaldarmi bene, sentire sempre più connessione man mano che arrivo al top set finale. Quindi magari posso cominciare da un 15, 12, 10, 8, leggermente a buffer, 1 o 2 buffer. Poi alzo ancora, vado a moto a cedimento, cedimento tecnico, dopodiché comincio a mettere qualche tecnica che può essere un response piuttosto che un drop, insomma. E quello diventa il mio top set. Quindi faccio una cosa dove prendo il muscolo all'inizio, comincio a scaldarlo, comincio a connetterlo, pian pianino lo porto al carico che voglio io e nel frattempo ho già accumulato un po' di fatica, no? Quindi il classico piramidale. Certo. Oppure, questo come primo esercizio, come secondo esercizio, sempre un esercizio madre, mi focalizzo tanto sul ramping. Quindi può essere un ramping da 8, la settimana dopo posso provare a fare un ramping con 10, quindi riprendendo gli stessi carichi che ho fatto nel ramping da 8, ma cercando di portarlo a ramping 10, no? E vedere se riesco a guadagnare qualche chilo in più. Certo. O comunque a mantenere quei chili, ecco. Però una cosa che mi piace molto è il ramping, perché ancora una volta ti permette in quei 3 o 4 set buoni di sentire proprio la qualità della contrazione. Sì. Quindi il primo set di ramping, quello diciamo buono, dove hai poco buffer e lo senti, lo senti lavorare. Aumenti ancora un pochettino, cacchio, mi sto riducendo il buffer, lo sento. Aumento ancora, ok, sono la terza e alla quarta, bam, cedi. E a quel punto ancora una volta posso introdurre qualche tecnica, che può essere sempre un response, può essere un drop, può essere che magari prendo il peso di prima dove non ho ceduto per il ramping e ci faccio un cluster. Quindi ad esempio se sto facendo un ramping 8, metti che cedo a 100 kg facendone 6, ritorno al peso precedente e mi faccio un challenge set da 4x4. Cerco di lavorare in questo modo qua, insomma. Cerco di introdurre sempre l'ultimo set come un qualcosa di challenge, dove porto all'esasperazione il muscolo, perché tanto poi è l'ultimo set, no? Quindi anche mentalmente dici ok, è l'ultimo, do tutto quello che ho e via. Esatto. Contrariamente a quello che invece facevo prima, che era cominciare con un top set pesante e poi magari fare i back off set. Ed ecco, quella cosa lì all'inizio funziona, però dopo un po' come sai, come ne abbiamo parlato, comincia a diventare almeno su di me troppo stressante, quindi avere questa frenese di battere il log, no? Di volere ogni volta migliorare la prestazione, poi richiede comunque molto riscaldamento, quindi c'è più parità di tempo. Quindi per ora quella fase lì l'ho accantonata, che poi ovviamente, come dicevo prima, rimescolando le carte, riporterò poi successivamente ancora in opera. Ma infatti considera che io il discorso di questo approccio Chasing the Log lo utilizzo sempre all'inizio del meso ciclo. Hai energie, schemi motori sono nuovi, cioè sono gli schemi motori che ti utilizzo. Esatto. Allora riesci, hai margine, hai margine, vai spedito, aumenti, eccetera. Quando inizi ad essere un po' più saturo, diventa... Come dicevamo, le prime, guarda, due, tre settimane mi piace tenerlo, perché vedi comunque che c'è una certa progressione. Diventa facile fare la progressione, tra virgolette facile. Dopodiché cominci ad essere veramente in fase di stallo. E allora, pur di battere il log, rischi di sporcare le cose. E questo non mi piace. Quindi o fai la ripetizione più veloce, rovini la negativa, magari mangi un po' di rom, capisci? Cominci a sporcare le cose perché devi battere il log. E allora questa cosa non mi piace. Quindi dopo tre o quattro settimane al massimo, dove mi accorgo che comincio a stallare e se voglio migliorare devo cominciare a fare qualche trucchetto, allora stop. Cambio esercizio, resetto il tutto e riparto per una nuova fase. Esatto, esatto, assolutamente. Allora, ascolta, partiamo con l'analisti di diversi stritti muscolari? Partiamo, io direi, partiamo dal basso e saliamo. Come se dovessimo immaginare di posare. Sì, partiamo con dei polpacci. Ah, polpacci, ok. Che è la cosa che tanti mi chiedono in realtà. Polpacci, insomma, diciamo subito, c'è una componente genetica ovviamente, ma in tutto c'è una componente genetica. Qualsiasi cosa, c'è chi allena magari le gambe male, eppure ha dei ventri muscolari talmente belli che le gambe sembrano quelle di un prono, quindi sbombate e così via. Quindi chiaramente anche nei polpacci il discorso genetica c'entra, perché se hai dei ventri piccolini, il polpaccio non potrà mai essere un bel cosciotto. Però, insomma, prima di alzare la bandiera bianca, lavoriamoci, no? Quindi quello che io ho visto funzionare tanto su di me è portare il set esasperato su ripetizioni molto alte. Quindi il carico più alto che puoi, con ripetizioni minimo 20, 30, 40, 50 ripetizioni, eventualmente fatte in response, quindi con delle piccole pause. però devi lavorarlo, devi tornirlo, come dico io, no? Devi proprio continuare a martellarlo, 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 finché proprio, cioè, lo senti che è bollente, senti il muscolo bollente, no? Quando lo porti a quel punto dove dici cacca, adesso qua va tutto a fuoco. Ecco, i polpacci sono un muscolo che vanno lavorati in quel modo lì, quindi peso più alto che puoi e ripetizioni, tra virgolette, 20, 30, 40 ripetizioni almeno. Dove li inserisci? Poi recuperi i brevi. Allora, anche qua il discorso è molto ampio, perché intanto dipende dallo stato attuale, dal fatto se devi migliorarli, se devi mantenerli e così via. Allora, nel mio caso sono fortunato, quindi dovunque li metta, bene o male, mi rispondono sempre bene. Quindi quello che faccio molte volte è metterli o nel giorno di gambe, verso la fine, quando comunque sono cotto, ma tanti polpacci per me è facile farli, quindi non mi richiede questo grande lavoro mentale. È abbastanza semplice da fare nel mio caso. Oppure li ho sempre messi nel giorno di braccia, quindi qualora la mia spirito provvedesse nel giorno di braccia, posso fare tricipiti, bicipiti e sempre come terzo muscolo, perché nel mio caso è semplice, i polpacci. Oppure li facevo anche nel giorno di cardio, quindi nel rest day, come prima cosa, appena arrivavo in sala pesi, facevo i miei polpacci, dopodiché passavo a fare l'esercizio di cardio e basta. Lavorandoli almeno due volte a settimana, due o tre volte a settimana e scegliendo sempre almeno due esercizi per ogni sessione, quindi magari una seated calf, poter essere con una seated calf, una pressa, insomma, cambiando un pochettino lo stimolo. Una cosa molto importante comunque è come dici tu anche, soprattutto per i polpacci, l'esecuzione, quindi il fatto di scendere bene, stirarlo e poi salire veramente più che potete, come se fosse una ballerina che deve andare sulle punte, devi proprio avere con la sensazione di salgo il più possibile e porto la caviglia in avanti. Esatto. Se tu pensi di portare la caviglia avanti e indietro durante il movimento, anziché dal basso in alto, ti stravolge l'esercizio. Totalmente. Quindi pensate sempre di portare la caviglia verso il muro che sta davanti a voi. Esatto. Quindi questo ti permette di salire tanto e proprio di avere quel ROM guadagnato in più perché sali veramente tanto e lo stritti tanto. Sì, poi il tendine d'Achille è il più forte del nostro corpo, quindi c'è il problema che ruba lavoro. Per questo il minimo movimento scattoso, rimbalzato, eccetera, te lo freghi totalmente. Te lo freghi totalmente. Quindi anche là a massima precisione. Assolutamente sì e poi veramente tanta tanta forza di volontà perché fanno male. Quindi io fate, dico sempre, il primo muscolo difficile ad allenare sono i quadricipiti perché bruciano. Ma il secondo, dove comunque hai bisogno di tanta tanta forza di volontà perché devi vincere quel male che ti entra fino nei testicoli, che lo senti proprio che sale fino ai testicoli, no? Sono i colpacci. ci vuole veramente tanta determinazione ma con l'allenamento poi lo ti abitui, ecco. Sì, alla fine è quello. Fa male, diciamolo subito, fa male. Se volete i polpacci devono far male. Recupero i ridotti, bruciore, finché proprio sentite che va in fiamme e vedrete che ne vengono fuori e anche la qualità ne guadagna tanto perché vedete anche i miei polpacci comunque sono sempre molto vascolarizzati tutto l'anno. Sì. i lavori ripetuti nel tempo. Sì, sì. E un discorso ad esempio è che i polpacci aprono la strada per fare tantissime tantissime tecniche di intensità. Nel senso, è veramente un distretto in cui ci si può sbizzarrire tantissimo. Sì. I polpacci vanno maltrattati quindi più gliene fate più sono contenti. Quindi guarda, lo sai, insomma ogni tanto lo dico, quello che faccio io sono, non so, può essere una tecnica di Pakulski dove prendi un peso relativamente leggero e questo ti serve soprattutto perché puoi partire direttamente con quell'esercizio lì senza warm up. Prendi un peso relativamente leggero e con quel peso ci farai 100 ripetizioni fatte in cluster quindi 10, 20, 30, 40 distanziati di 10 secondi 20 secondi 30 secondi vi assicuro vi assicuro che se imbroccate il peso a 30 cominciate a piangere quando fate le 30 ripetizioni quando dovete fare le 40 piangete e quindi vi toccherà se riuscite a chiudere siete veramente dei maghi avete o imbroccato o avete messo troppo leggero tipicamente io non lo chiudo e faccio magari 25 più 15 faccio dei piccoli respiri li chiudo e questo è un esercizio secondo me bellissimo con cui partire a fare i polpacci proprio perché usi un buon peso non rischi infortuni però li tornisci fin da subito ed è una sola diciamo una sola serie quindi anche mentalmente dici ok mi ci butto dentro schema 10, 20, 30, 40 so che ho finito bam e poi come secondo schema tipicamente faccio lo schema di Meadows che prevede 10 ripetizioni 10 secondi in contrazione 10 ripetizioni 10 secondi in contrazione 10 ripetizioni e anche qua le ultime 10 ripetizioni devono bruciare veramente tante devono essere parziali proprio devono praticamente arrivare che sei costretto a sporcarle magari le prime 3 sono ancora buone dopodiché quello che riesci riesci insomma tipicamente in questo caso magari faccio un piramidale quindi devi ci sono degli amici che vuoi vedere con gli amici sono al telefono no non puoi no sono al telefono quindi dicevo quello che faccio tipicamente è una sorta di piramidale quindi il primo set ho un peso che mi permette di chiuderlo vado avanti aumento un pochettino il secondo comincio a sporcarlo il terzo aumento e diciamo che le ultime 10 ripetizioni diventano molto molto difficili da fare esatto quindi questo è tipicamente quello che faccio oppure un'altra cosa che si vede nei video è l'alternanza di 10 ripetizioni relativamente pesanti fatte alla pressa piuttosto che alla standing calf alternate con il kneeling calf dove ti metti il ginocchio e le fai a corpo libero terni qua e anche qua sono 100 colpi quindi peso non troppo esagerato però vedi che il volume il numero di ripetizioni schizza le stelle no ecco fatto due o tre volte a settimana direi che è più che sufficiente sì sbizzarrirsi la variare cioè diciamo che i colpacci sono molto resilienti diciamo quindi vanno veramente veramente massacrati e sbizzarritevi un'altra cosa che che mi ha dato molto beneficio a me in generale è se dovete fare del cardio fatelo funzionale in questo cioè camminate bella in salita prima e prima preattivate i colpacci infatti la mia fortuna dell'avere i colpacci già così è che io prima di iniziare il bodybuilding correvo e la mia modalità di corsa era molto molleggiata diciamo era molto fatta con i polpacci e quindi i polpacci me li sono proprio fatti così mi sono nati così dopodiché partendo a fare il bodybuilding mi sono trovato relativamente avvantaggiato e quindi sono venuti fuori ecco esatto esatto però sì bene e allora salendo quindi che facciamo salendo io farei femorali vai femorali al basso saliamo da dietro e quindi femorali che è come sale il mio muscolo preferito no perché insomma io da quando ho conosciuto mia moglie lei mi ha aperto un po' la visione mi ha sempre detto massacra i polpacci massacra i femorali perché sono quelli che non vedi e sono quelli che nessuno fa e quindi io spinto da questo piccolo bodybuilder ho cominciato fin da subito ad allenare pesantemente i femorali ed effettivamente il femorale ti stravolge la gamba se tu hai un bel che tu sia da dietro e che tu sia anche di fronte il femorale lo vedi e ti fa la gamba quindi ho sempre cercato di lavorarlo che può essere fare due sessioni di gambe dove una magari privilegi i femorali una privilegi i quadricipidi però li fai sempre tutti e due oppure può essere una sessione solamente di femorali questo dipende un attimo dalla split da quanto volume si fa in totale da tanti fattori diciamo però non vanno trascurati ecco il messaggio che deve venire fuori è fate i femorali perché quadricipidi la gente li fa sempre volentieri i femorali si mettono alla fine due colpi di leccar e via purtroppo almeno su molti non funziona così vanno veramente lavorare uno splittaggio anche carino quando ce l'hai proprio carenti è avere toccarli nelle due sessioni di gambe quindi gamba 1 gambe 2 le tocchi e poi in mezzo nella sessione schiena nelle fasi proprio mesociclo tre volte a settimana bellissimo ti dai quel tocco così oppure in una sessione una cosa che mi piace esattamente una cosa che mi piace per insomma aumentare il volume sempre sui femorali è quando fai schiena usare degli stacchi così unisci l'utile a dilettevole riaffaticando con un leccarle così li senti proprio bene bene due ultimi esercizi prima ti fai la schiena dopodiché passi e cominci a riscaldare bene a pompare i femorali con un leccarle e poi gli dai l'ammazzata finale richiamando sempre comunque tutta la schiena con un bello stacco o meno piuttosto che quello che preferite però sì assolutamente anche nel giorno di schiena ci stanno benissimo e per quanto riguarda diciamo l'allenamento di femorali anche qua ci si può sbizzorrire si può partire da un leccarle e anche qua si possono fare tutte le tecniche che si vogliono quindi facciamo sempre non so il drop set le parziali l'iso hold queste funzionano benissimo dopodiché mi piace passare a un esercizio diciamo più fondamentale che possono essere gli affondi bulgari che è l'esercizio che io prediligo per quanto riguarda tutta la catena posteriore oppure qualora non voleste toccare i quadricipiti si può passare direttamente ad uno stacco quindi fare un leccarle dopodiché quindi lo pompiamo dopodiché andiamo a stirarlo con uno stacco che può essere a gambe tese piuttosto che un RDL ancora sta a voi e dopodiché si va avanti ancora con la seduta quindi non so si può fare un po' di affondi camminati si può rifare un leccarle magari più metabolico quindi se magari prima fate il line leccar quindi sdraiato come primo esercizio dopodiché mi piace passare a quello seduto facendo però un lavoro più metabolico quindi dei cluster insomma qualcosa di ad alto volume magari stando seduti nel sellino quindi cercando di favorire l'iperemia e l'iper extension che è una cosa che io adoro e che pochi fanno purtroppo perché sembra essere la macchinetta della bassa schiena tanti la confondono come la macchinetta della bassa schiena faccio un po' di lombare vabbè faccio l'iper extension e invece purtroppo non è così perché l'iper extension non è altro che fare uno stacco gambe tese messi con una certa angolazione e quindi potete fare tutte le cose che volete ed è facilissimo potete attaccare gli elatici potete tenere dei pesi in mano potete mettere un bilanciere però veramente ho messo anche dei video sull'iper extension e secondo me è veramente una macchina che ti permette di fare tante cose quindi sia a livello di femorale che a livello di gluteo come ci lavori sull'iper sull'iper ma guarda di solito la metto come fine e faccio dei set relativamente ad altre ripetizioni perché ormai sono verso la fine quindi mi focalizzo molto sullo stirare il femorale quindi scendo bene magari resto giù uno o due secondi cercando di sentire proprio stirare con il mio peso la schiena mi metto in avanti cercando di stirare proprio tutto il femorale e dopodiché sali bene sempre cercando di focalizzarti sul salire con i femorali quindi immaginando di avere dei fili all'interno del femorale e di volerli accorciare quindi sali in questo modo chiaramente ci sarà anche un po' di partecipazione del gluteo però se poi tenete anche la schiena relativamente curva questo vi permette di bypassare un attimino il problema di lavorare più che altro il femorale dopodiché magari fai un drop oppure metti gli elastici droppi gli elastici e vai avanti fino a che bruciano insomma sono degli esercizi finali di rifinitura chiamiamoli così ecco e dopodiché direi che per i femorali una volta che avete fatto un lavoro così dettagliato con le leccarle poi con degli stacchi avete più bisogno di molto altro anche perché poi quando poi fate la vera sessione di gambe diciamo quella più completa comunque li richiamate tu li metti all'inizio quando fai le gambe complete come dicevo prima cambio quindi ci sono delle sessioni dove mi piace cominciare con le carle per poi andare su spot oppure ci sono delle sessioni dove invece preferisco lasciarli più diciamo più avanti nel corso della seduta quindi cominciare subito con lo squat focalizzandomi molto sul carico in quell'esercizio lì per non disperdere le energie iniziali nelle leccarle quindi va un po' a settimana alcune volte li metto prima alcune volte li metto dopo dipende un po' un pochettino dato come come frulla in quel momento ho capito però sicuramente vanno fatti leccarle è un must di tutte le salce a parte che il leccarle è l'esercizio in realtà il migliore per i femorali viene sottovalutato tipo una macchinetta poco efficace magari perché è di isolamento eccetera però realmente è veramente il must per costruire dei bei femorali quindi nel caso siano carenti io faccio sempre abbondare un po' carico abbastanza di leccarle diverse angolazioni una cosa non so se l'hai mai provata in maniera continuativa è leccarle con manubrio ah sì l'ho provato però diventa un po' difficoltoso se non riesci a pigliarlo con i piedi ecco però sì la sensazione è molto è molto buona è molto buona la sensazione è completamente diversa dalle leccarle classici a cui siamo abituati proprio per come mi viene messo il peso esatto peso quindi anche con i piedi sì direi che è un'ottima variante da mettere magari verso la fine l'ho vista fare anche con degli elastici far passare un elastico sì 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 forse in quel caso è più facile perché appunto metti l'elastico vicino alle caviglie non devi sollevare il bilanciere il manubrio scusa a meno che hai qualcuno che ti aiuti che te lo metta sull'ultimo carino perché per tenere il manubrio tu in realtà devi tenere molto molto stretto e quindi vai a coinvolgere molto anche gli adduttori sì 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 è vero è vero no è completamente diverso sembrerebbe uguale ma per come viene messo il peso e per come lo devi tenere ti cambia proprio tanto l'esercizio sì esatto e un'altra cosa interessante comunque visto che abbiamo tante macchine a leccarle a disposizione quello che cerco di fare è sempre avere due leccarle diversi nel corso della settimana quindi mi piace alternare quello sdraiato con quello seduto e quello seduto secondo me è imbattibile o meno per come lo sento io sui miei femorali è imbattibile anche perché sento tantissimo il congolgimento dell'interno coscia quindi questo mi piace farlo proprio perché poi in quel giorno io andrò a colpire anche nella sessione l'interno coscia specificatamente con i gli affondi dopodiché con la macchinetta quindi come primo esercizio se quel giorno metto le leccarle lo metto seduto proprio perché sento tantissimo il congolgimento dell'interno coscia e questo mi permette di aumentare lo spessore della coscia frontalmente questo è e la gamba completa deve essere lavorata a 360 questa è una cosa che non sono quadricipiti e femorali devi dargli proprio un coinvolgimento 360 purtroppo no per la gamba fino a un certo punto riuscirai a sbombarla ma se non hai lo spessore interno della gamba e questo spessore interno te lo fa il femorale te lo fa l'aduttore avrai sempre delle gambe che sembrano due stecchini quindi assolutamente so che a noi piace fare i quadricipiti piace fare la leg extension però bisogna capire che ci sono dei punti che molti si dimenticano che vanno però toccati e questi sono specificamente gli aduttori importantissimi e i femorali una parte di femorale comunque si vede anche da davanti quindi insomma è per quello che dicevo che sono veramente dei muscoli molto importanti se siete interessati ad avere le gambe vanno fatti e ascolta gli aduttori parlando di aduttori come li vai a inserire? gli aduttori allora ormai stanno diventando diciamo il mio cruccio nel senso che veramente mi piace allenarli e vedo che la gamba effettivamente sta cambiando sta cambiando forma insomma lateralmente e frontalmente la gamba adesso è molto più piena quindi come ti dicevo prima potrebbe essere un primo esercizio di leccare seduto dove io li sento tantissimo dopodiché affondi sicuramente io adoro gli affondi quindi il giorno diciamo di femorali ho sempre degli affondi quindi ogni movimento unilaterale va comunque a stimolare gli aduttori e poi può essere che ovviamente ci sia la macchinetta ovviamente appesantita perché ormai le macchinette che ci sono in giro alcune sono veramente leggere quindi in qualche modo si va ad appesantire attaccando dei dischi delle piastre e in quel caso li lavoro siccome ormai sono già cotti dall'leccare dagli affondi in quel caso vado a lavorarli sull'alto volume quindi può essere ancora una volta i diecis come facciamo quindi dieci dieci secondi in squeeze dieci dieci secondi in squeeze dieci oppure possono essere delle target reps da 50 può essere un response magari 20 10 10 comunque qualcosa dove li lavoro molto sul tempo ok una cosa simile a polpace diciamo e dovete scendere dalla macchina che avete due zampogne in mezzo alle gambe ecco questo è il messaggio che deve arrivare quindi non tanta roba pesante ma focalizzarsi tanto sul lavorarli nel tempo nel tornirli nel tempo nel scendere e avere veramente due sacche pieni di sangue ecco assolutamente dopodiché magari un ultimo esercizio ci può stare un esercizio di stretching quindi magari fate i due set e poi un terzo set potrebbe essere quello di faccio una ripetizione il resto 5 secondi in stretch e richiudo arrivando in 5 secondi di stretch e così via quindi facciamo magari un set in questo modo ecco questa cosa anche nei polpaci mi capita di farla quindi come ultimo set nei polpaci mi piace fare anche un ultimo set chiamiamolo di stretching dove magari aumenta un po' di più il carico perché adesso voglio veramente arrivare a stirarli con il peso e faccio magari una decina di ripetizioni in questo modo qua quindi 10 secondi giù 5 secondi giù 2 secondi su in contrazione forte e così via fino a farne una decina ecco questo come ultimo come ultimo set della seduta diciamo per chiudere il tutto esattamente ci sta all'inizio io ad esempio una cosa che sto facendo adesso è iniziare la sessione gambe con un super set tra adduttori e abduttori quindi 3 round e diamine esci che hai la gamba i quadricipi dei femorali intatti però la gamba è carica di sangue esatto si si è quella sensazione di caldo e anche quando vai sotto poi all'esercizio ti cambia completamente la percezione dell'esercizio sei molto più stabile quello che prima di fare i bulgari si si assolutamente e per quello che anche prima di fare i bulgari faccio le carne alcune volte anche io faccio prima un piccolo riscaldamento senza cuocermi però all'adductor quindi è proprio un puro esercizio di pompare sangue e scaldarli esatto però si sono fondamentali veramente piccolezze che uno non ci pensa però con l'andare avanti negli anni ti accorge che queste fanno la differenza totalmente lo shape della gamba è totalmente differente assolutamente assolutamente la percezione è diversa vuoi passare ai glutei o ai quadricipiti ormai siamo dietro facciamo glutei vai allora glutei anche qua insomma vanno torniti vanno lavorati anche questi e quindi quello che io cerco di fare è sempre nel giorno di femorale infatti lo chiamo giorno di femorale glutei dare anche lì uno stimolo quindi affondi ancora una volta quindi per quello che mi piace tenere gli affondi perché sono un esercizio secondo me completo perché con un solo esercizio vai a fare aduttori fai quadricipiti fai femorale fai il gluteo quindi è proprio un esercizio completo per tutta la gamba quindi glutei faccio quello poi faccio gli stacchi quindi può essere un rdl piuttosto che uno stacco gambe tese dove ti focalizzi tantissimo qua occorre purtroppo molta concentrazione quando risali nell'avere il drive nel gluteo quindi proprio sentire che è il gluteo il driver di tutto il movimento e questo diciamo c'è un piccolo trucco mentale che ormai sto sperimentando che è quello di pensare di portare il peso avanti e indietro quindi pensare di portare il gluteo avanti e indietro quando fate gli stacchi basso verso l'alto se tu pensi di fare un hip thrust però sei messo in verticale viene perfetto quindi porto indietro e nell'hip thrust abbassi in realtà il gluteo porto in avanti e in realtà nell'hip thrust lo alzi e contrai se voi pensate di fare esattamente questa stessa cosa messi però in posizione verticale lo stacco viene una bellezza perché usate esattamente il gluteo come motore e questo previene anche il fatto che usate la bassa schiena chiaramente magari il carico un pochettino scende perché necessariamente dovrà scendere perché se riuscite ad isolare molto di più il gluteo piuttosto che a far intervenire altro un pochettino il carico scende però la percezione è tutta nel gluteo a questo punto non è più uno stacco che sembra quasi uno stacco da terra dove tiri sul peso boom quello che succede succede è proprio una cosa molto ricercata dove utilizzi veramente il gluteo poi ancora extension finale anche lì per quello che la uso perché appunto con un esercizio riesco a colpire femorali e glutei e poi ci può essere un adductor machine che anche quella mi piace molto sempre ad altissime ripetizioni anche quella quindi lavori protrati nel tempo oppure un esercizio come il sumo squat o il jefferson che ho messo nell'ultimo video proprio per far vedere come si possa veramente cercare di isolarlo e di migliorare tantissimo la qualità del gluteo con questo esercizio quindi va sicuramente lavorato tanto il gluteo insomma chiaramente le donne hanno una necessità di vesta noi uomini non avere il gluteo più tondo più sviluppato però anche gli uomini devono comunque avere una certa insomma portanza nel gluteo e soprattutto deve essere non troppo grosso e questo ovviamente poi lo si fa anche con la dieta dove si previene che ci sia un accumulo di grasso proprio in quella zona e poi va lavorato va sfinato e va sfibrato quindi ci sono tutte queste serie di esercizi dove tipo il sumo o tipo il jefferson dove proprio si va a lavorare tra il gluteo e il femorale proprio in quella zona lì bassa e questo ti permette di arrotondarlo tantissimo sotto perché tante volte il gluteo ti si ingrandisce ma sopra quindi hai proprio due palloni sopra esatto di sotto sembra quasi che poi ti sparisca il femorale perché hai questo gluteo enorme sopra questo femoralino che diventa piccolino visivamente mentre se tu riesci a lavorarlo da sotto il gluteo diventa proprio completamente tondo e si unisce bene col femorale esatto e poi ovviamente compaiono anche le striature perché normalmente il gluteo si allena sempre con l'abductor che va a infatizzare il medio gluteo quindi la parte più alta assolutamente e ascolta lavori diretti come l'ip thrust li vai a fare? no sinceramente no anche perché rischerei poi di avere il gluteo troppo grosso visto che a me il gluteo viene fuori abbastanza facilmente quindi devo stare molto attento su questo proprio perché il bodybuilding è anche una questione di equilibrio tra i vari distretti quindi ci sono dei distretti che magari ti crescono di più e riescono di mettere diciamo in ombra altri distretti assolutamente quindi il gluteo purtroppo è un distretto che a me cresce facilmente e quindi anche lo squat cerco di farne non molto il black squat cerco di farlo non troppo perché altrimenti appunto mi accorgo che mi viene questo pallone gigante e poi mi mangia il femorale va personalizzata la cosa ecco però diciamo che va lavorato tantissimo anche il gluteo perché la qualità e le striature insomma la bassa di grass tutto va a sistemare ascolta invece lavorarlo con lo stair master oppure quello guarda lo sai che io adoro lo stair master proprio per questa cosa quindi assolutamente sempre questi lavori protrati nel tempo comunque contribuiscono a dare qualità al muscolo quindi la pasta muscolare migliora la pelle tra virgolette si riduce la vascularizzazione aumenta e quindi lo stair master per me è un veramente una bacchetta magica per dare quello step ulteriore nella qualità quindi stair master che ancora una volta può essere messo alla fine della sessione di glutei proprio quindi fate gli ultimi 20 minuti dove lo fate piano ma strizzate bene il gluteo da ogni gradino oppure anche alcune volte quando faccio cardio non troppo però ci possono essere una o due sessioni di settimana dove faccio questo lavoro che non è non è proprio un esercizio di cardio per me è proprio un esercizio di lavoro muscolare chiamiamolo quindi non troppo veloce dove però ti focalizzi tanto su questa contrazione e sul sentire il gluteo che si contrae cercando di dargli la qualità però assolutamente stair master si promosso a pieni voti assolutamente ascolta prima di passare i quadricipiti anzi no te lo chiedo dopo che abbiamo toccato i quadricipiti così finiamo la gamba prima ok quindi eh per i quadricipiti si potrebbe fare un libro praticamente no perché è lo che tutti noi cerchiamo e come dicevo prima innanzitutto bisogna capire un attimo anche la propria genetica quindi ci possono essere delle gambe che crescono meglio o che visivamente appaiono più grosse rispetto ad altre ma questo è semplicemente perché ci sono certi ventri muscolari che si riempiono o che sembrano meglio di quelle di altre distretti di altre persone quindi va capito un attimo come è fatta la vostra genetica dopodiché ancora una volta è chiaro che il quadricipite sia la goccia davanti che il vasto laterale e quindi la 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 cosa che più ho capito nel corso di questi ultimi mesi è il discorso tecnica di accosciata quindi la mia gamba ha cominciato ad assumere veramente un'altra forma quando ho cominciato a fare esercizi completi in accosciata squat machine completamente giù hack squat completamente giù pressa il più giù che potevo rinunciando comunque ad una buona percentuale di carico però questo veramente ti stravolge il quadricipite questo ti permette veramente di ingrandirlo lo vedi lo vedi crescere spessore e lo vedi anche come sbombatura di assolutamente accosciata per me è ormai diventata un must non faccio un esercizio se non sono sicuro che il range di movimento è quello che voglio io poi ci possono essere dei casi in cui invece dici ok mi voglio focalizzare su una certa parte del range dove non riesci ad accosciare tutto per ragioni geometriche diciamo e allora tieni la contrazione fai i movimenti più piccoli dove tieni la contrazione nel quadricipito però questo devi essere consapevole di questa cosa quindi non fare semplicemente questi tipi di leg press molto ridotti ma completare il tutto all'interno della seduta ci sono esercizi dove cercherai di puntare più che altro sulla qualità dal movimento completo esercizi magari chiamiamoli più di rifinitura dove invece fai dei movimenti più piccoli carichi magari anche relativamente più alti ripetizioni relativamente più alte dove però tieni la contrazione in un certo range esatto ecco tanto io ho visto con il pendolo per esempio assolutamente il pendolo macchina fenomenale purtroppo adesso non l'ho più ho cambiato palestra però quello è una macchina semplicissima a livello costruttivo ma che veramente fa tantissimo perché lì la cosciata è da manuale e io vabbè riesco a farlo con l'arc squat fortunatamente adesso avendo ricambiato palestra ho un arc squat molto carino quindi anche lì tutto giù fino a toccare i fermi praticamente esatto facendo tutto inutile non lo faccio capisci il peso deve essere buono relativamente alla tecnica ottima anche perché sulla squat e sulle accosciate il ginocchio è molto più flesso rispetto anche alla leg extension la leg extension non vai a accosciare così tanto assolutamente la leg extension infatti è ottima quando devi fare l'ultima parte del rom quando devi strizzare il quadricipite esatto la lavori lì infatti è una cosa molto interessante magari combinare un esercizio di squeeze la gest tension più si si squat ad esempio una cosa che mi piace fare alla fine quindi dove riuscire a complementare i due esercizi in questo modo quando tu fai un superset unendo due esercizi che si complementano a vicenda quindi uno che lavora più sullo squeeze e uno che lavora più sullo stretching esatto e la squat insomma è il top resta il top pur una pressa una buona pressa ecco come quella che si vede nell'ultimo video fenomenale quella è della Precord quella è della Precord è da alla particolarità di avere una pedana che non è dritta ma è una sorta di semicirconferenza diciamo è curva quindi ti permette di adattare esattamente i piedi come vuoi tu vedi ed ha delle geometrie pazzesche dove riesci veramente a fare queste accosciate che si vedono dove riesci proprio a scendere tutto e lì ci siamo massacrati nell'ultimo video con relativamente 300 kg penso siamo arrivati ma erano delle tonnellate perché quando tu fai un rom così completo con un angolo di rotazione così grossa quando riparti ogni volta che riparti è un massacro per ritornare all'angolo dritto da quell'angolo lì così così chiuso è un massacro cioè il carrello si muove tantissimo perché scende scende tantissimo quindi il lavoro che tu fai è enorme a sollevare il peso di tutta quella di tutta quella salita quindi è vero che c'è meno peso però se tu moltiplichi il peso per spostamento non è che le cose siano molto lontane capisci quindi il lavoro totale alla fine quello sai dipende dipende tantissimo dal discorso della appunto della meccanica del macchinario le presse che veramente devi piangere cinese per cercare di fare queste tipiche apposciate e allora a questo punto o ci rinunci o cominci a giocare molto sullo stance quindi purtroppo lo devi allargare per cercare di ovviare questo problema oppure in alcuni casi riesci a diciamo a taroccare un attimino il sellino mettendo dei foam roller piuttosto che dei cuscinetti sul cuscino o sul pianale sullo schienale in modo tale da cambiare fittiziamente l'angolo ecco esatto quindi può essere questa alternativa che ogni tanto provo su alcune pressi dove non riesco a sentirmi perfettamente a mio agio come rom allora comincio a prendere magari dei cuscinetti o dei foam roller e a piazzarli strategicamente o sul sellino o sullo schienale per modificare un attimino l'angolo certo cercarsi di abbassare ancora di più lo schienale quindi modificando l'angolo relativo alla piattaforma in modo tale da guadagnare quel pezzettino di rom che mi permette di scendere esatto però questo richiede un attimino di tempo quindi tante volte si arriva in palestra con un po' di fretta insomma poi una volta che lo sai fare lo fai però le prime volte richiede un attimino di studio e lo fai senti per invece metodiche di allenamento di quad assolutamente medio alte ripetizioni assolutamente io non scendo mai sotto le 8 ma in realtà mai sotto le 10 può capitare che magari in un discorso di piramidale arrivo anche a farne 6 magari con un front squat 6 esce bene esce bene perché non non hai un tempo eccessivo per stancarti troppo a livello di presa quindi sono 6 botte e via in un discorso di piramidale ecco ci può stare però diciamo regola generale non sotto le 10 nemmeno io quindi 10 12 poi magari chiaro magari quella volta carichi di più te ne escono 8 pazienza però diciamo il range ideale è 10 12 15 20 e sopra diciamo anche perché poi c'è tutto il rischio articolare e neurale quando scendi tanto perché carichi tanto una cosa che odio è la pressa pesante basta proprio una cosa che mi dà un fastidio anche solo vederla fare come primo esercizio una pressa pesante mi urta proprio sì sì mi dà fastidio proprio vedere fare una pressa pesante 8 colpi perché ti macini le ginocchia e insomma calcolo a me non dà fastidio io la mia pressa pesante è sopra i 10 cioè parlo sempre di un 10-12 però dipende dipende molto dalla pressa ti dico la verità allora io c'era quella in cui mi allenavo in lockdown che aveva un angolo molto molto carino era molto carina come pressa mi trovavo bene se no normalmente quando devo andare pesante utilizzo la pivot quindi quella che in basso ha pochissima tensione quella basculante quel discorso ok invece a me piace sempre iniziare con uno squat che può essere una squat machine una squat e lasciare la pressa come secondo o terzo esercizio quindi potrebbe essere una ricetta potrebbe essere leccarle squat machine pressa molto raramente leg extension squat machine pressa oppure iniziare direttamente con lo squat e come secondo pressa mi dipende un attimo però la pressa la tendo a fare su lavori un pochettino più ad alte ripetizioni o metabolici ecco per farli scusare io alterno cioè ho due sessioni una inizio con lo squat una inizio con la pressa e viceversa quindi squat pressa o pressa squat sì assolutamente anche a me piaceva così anche perché diciamo a me piace molto cominciare prima con lo squat perché proprio mi focalizza molto sul movimento e sul insomma per me lo squat è il must la pressa invece mi permette di fare quello che non riesco a fare con lo squat quindi la uso come variante proprio perché puoi usare lo stance che con lo squat non ti può permettere però vi ragioni alcune cose con la squat machine non riesci a fare con la pressa riesci a farle con la pressa se seduto all'interno cambia un attimo l'ambiente e quindi riesci a fare cose che con la squat machine non riesci o con la squat non riesci ma come esercizi di accosciata stai utilizzando anche lo squat libero? guarda ultimamente proprio perché in questi ultimi mesi sono rimasto in Italia ed in una palestra dove non c'erano grandi macchinari ho sempre fatto squat libero piuttosto che squat la smith o front squat libero o la smith quindi sì ho sempre cercato di fare questi movimenti oppure in alcuni casi anche con la trap bar ecco se proprio non volevo fare lo squat col bilanciere sopra lo tenevo sotto con la trap bar però lo squat è fondamentale accosciata completa e via non ci sono santi sì sì la pressa invece lavori lavori medio ripetizioni alte piuttosto che cluster piuttosto che respose dei drop prolungati nel tempo però massacrarsi è difficile che io faccia un set diretto con la pressa e basta la pressa è bella proprio perché ti permette di fare tante cose che con altre macchinari non riusciresti a fare sei seduto nel tuo seggiolino via esatto esatto via puoi fare qualsiasi stanza tu voglia puoi fare senza problemi come tecniche fai qualcosa di particolare? guarda le tecniche può essere il ramping con l'ultima tecnica finale che è un respose un doppio drop può essere un qualcosa di più metabolico che può essere un 5x5 oppure può essere magari verso la fase finale dell'allenamento fare un ramping sui 20 dopodiché trovato quel carico fai un cluster finale da 40 quindi fai 12 18 6 4 con quel carico da 20 ne fai 40 quindi questo diventa il mio challenge set tutti questi tipi di lavori con la pressa secondo me funzionano da grande bellissimi oppure tante altre cose carine che possono essere un drop meccanico quindi parti con uno stance e man mano che vai avanti cambi lo stance non sarà da favorire il fatto di poter prolungare il set certo sono di tutti i colori ecco basta sbizzarrirsi un attimo un'altra cosa che mi piace molto fare soprattutto in questo caso con la pressa orizzontale è il classico quartetto di minidox quindi 20 ripetizioni aumenta il carico 5 stop reps più 15 aumenta il carico 10 stop reps più 10 aumenta il carico 15 stop reps più 5 anche questa qua è una cosa che mi piace fare e veramente ti sfascia quella è bella quella è bella sulla pressa caricamento a piastre in quel caso lì è molto bella perché è semplice può ripartire no un'altra cosa però adesso mi sono dimenticato volevo dirti una cosa ma me la sono dimenticata io tanto il controllo in eccentrica sai è una cosa che sto che ho migliorato nel corso degli anni quello ho visto che fa tanto la differenza cioè in eccentrica concentrarsi sul buttare le ginocchia in avanti ovviamente non in maniera esagerata però perché di solito tendiamo sempre a evitarlo come momento invece lascia che le ginocchia vado in avanti in modo che il quad abbia un ottimo rom di movimento e concentrati proprio in eccentrica sulla tensione sui quadricipiti questa è una cosa che a me ha rivoluzionato parecchio proprio le sensazioni soprattutto per le gambe ma anche in altri muscoli l'eccentrica così tirata non eccessivamente tirata però comunque ben controllato controlla esatto la bella è quando senti proprio che le fibre cominciano a sfasciarsi arrivi ad un punto nelle ultime eccentriche finali dove senti proprio che il muscolo comincia a sfarfallare e le fibre sono bullenti e senti proprio che saltano ecco quello lì secondo me è il set ideale quindi se tu riesci ad arrivare a quella sensazione lì e questa cosa la fai solamente con le eccentriche tenute non ci arrivi in un altro modo quindi quando tu hai questa eccentrica che ti permette di avere questa sensazione il giorno dopo stai sicuro che sei sfasciato devi sentire tanto il muscolo cioè nell'eccentrica devi sentire tanto il muscolo quello deve essere un obiettivo comune a tutto sentirlo proprio bello vivo ebbene bollente le fibre che saltano proprio come delle corde di violino che pian piano saltano tutte ecco quando arrivi a quel punto lì per me hai raggiunto il karma ma diciamo proprio birvana sì un'altra cosa è anche concentrarsi molto molto sullo stretching quindi anche questo mi ha cambiato tanto la qualità concentrarsi molto sia durante la sessione magari ma anche alla fine con uno stretching forzato cercando di di stendere quanto più possibile le fibre ottimo una cosa che vi consiglio sempre di fare ma anche per gli altri distretti ma soprattutto per le gambe per i quadricipiti alla fine fare un bel un bello stretching forzato cambia molto assolutamente cambia molto anche la flessibilità stessa che avete ti faccio una domanda che è quella che ti volevo far prima perché me lo chiedono in tantissimi per chi ha difficoltà a tirare le gambe quindi a a squartarle e tutto tu come consigli di lavorare? guarda io sempre questi lavori protratti nel tempo questi lavori con riposi relativamente ridotti diciamo relativamente parlo non roba da 5 minuti dove fai 8 ripetizioni alla morte e stai fermo però questi lavori dove comunque continua a martellare il muscolo quindi con una densità di lavoro nell'unità di tempo alta sono la chiave per le gambe quindi per la vascularizzazione soprattutto della gamba e per lo sfinamento della pelle stessa quindi tutti questi lavori altamente da alte ripetizioni cluster respose drop set roba dove comunque senti la gamba lavorare tornita sono sono quelli che mi hanno dato il salto di qualità ecco lo stesso se il master anche quello anche quello se fatto bene strizzato è ancora un lavoro portato nel tempo quindi anche quello ti permette di avere questa qualità questo sfinamento della gamba queste fibre sul quadricipite questo soprattutto non season perché la gente poi inizia a pensarci solo in gara no purtroppo no perché anche se tu non le vedi comunque sotto ci sono quindi devi sempre pensare poi all'ottica futura di quando insomma la qualità anche se non la vedi però sotto c'è e un'altra cosa importante che adesso sto testando che mi ci trovo abbastanza bene è la bicicletta alla mattina come cardio fatta ad una buona diciamo una buona intensità quindi un buon effort dove senti proprio i quadricipite comunque bello pieno di sangue lavorare e anche quello ha contribuito tanto a tenerle qualitative quindi con la pelle sempre bella fine svenate mi ci sto trovando veramente bene mentre prima il mio cardio era magari il tappeto classico tappeto da quando ho scoperto la bike effettivamente mi ha fatto fare un salto chi volesse provare a farla secondo me è un ottimo modo per bruciare comunque quello che dovete bruciare e al tempo stesso lavorare la gamba senza affaticarla troppo assolutamente io trovando veramente bene mezz'ora al giorno con quella e la gamba è rimasta sempre quella alternata magari a uno o due sedute di Stairmaster questo dipende un attimo lo Stairmaster tende a non farne troppo perché poi c'è il rischio di bruciarsi troppo la gamba te la prosciuga si trasvuota esatto soprattutto nel mio caso dove con un metabolismo relativamente alto il volume di lavoro è abbastanza alto mettere anche lo Stairmaster è molto rischioso però una o due sessioni ci possono stare esatto poi è sempre una cosa soggettiva chiaramente c'è chi per virgolette non catabolizza troppo le gambe e chi invece appena comincia a fare troppo lavoro gli si prosciuga esatto esatto senti salendo salendo cosa abbiamo addome 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 ecco un'altra ecco stiamo proprio toccando tutti i punti dove ho fatto dove ci ho lavorato molto in questi ultimi mesi l'addome è una parte che veramente ho cominciato ad allenare bene solamente in questi ultimi mesi mentre prima l'addome lo facevo magari come fine seduta ma si facciamo tre serie di crunch ciao e lo allenavo di merda effettivamente avevo sempre un addome cioè comunque pulito perché questo devo fare la dieta ma non avevo non avevo mai quella qualità a livello addominale di tasselli scolpiti di quella densità e di quello spessore che invece adesso sono riuscito a raggiungere e questo l'ho trovato facendo praticamente quasi ogni giorno degli esercizi molto stupidi quindi mettendomi per terra se sono a casa o in palestra magari con la classica la data machine o la sbarra facendo un legresis quindi questo è l'esercizio che secondo me ti dà veramente quel quid in più a livello di addome quindi puoi essere sdraiati e semplicemente alzate le gambe e le portate verso di voi verso il viso diciamo folding crunch si chiama dove cerchi proprio di chiuderti a compasso e senti veramente una forte contrazione oppure se è possibile avevo giusto postato l'altro giorno nelle stories la panchetta la classica panchetta dei crunch in alcuni casi si può reclinare anzi in quasi tutti i casi si può reclinare l'inclinazione e poi c'è una maniglia apposta dove tu ti puoi appoggiare e tenerti diciamo in prossimità della testa per fare sempre ancora una volta il folding crunch forse lo vedi forse lo vedi anche fare in alcuni video di Eugene dove appunto fa vedere dove cambia l'inclinazione di questa panchetta e questo qua è stato l'esercizio che veramente ha dato la svolta l'interessante è che quando tu scendi quindi fai andare le gambe verso il pavimento senti uno stretching fortissimo e poi quando risali porti le gambe alzi leggermente il curo dallo schienale e senti una contrazione fortissima e questa alternanza di stretching e di squeeze è quello che poi ti dà la qualità del muscolo quindi il muscolo va stirato e contratto stirato e contratto nel tempo e questo mi ha veramente cambiato e poi un'altra cosa che mi ha cambiato è il vacuum quindi il controllo dell'addome questo è un esercizio che ormai è la routine giornaliera alla mattina io ho ormai la mia routine ho la bici poi ho questi esercizi di folding crunch che possono essere per terra se sono a casa possono essere sulla panchetta se sono in palestra e poi ho un po' di giri di vacuum quindi poso l'addome diciamo ipoteticamente come se dovessi fare una side triceps un lato poi faccio il vacuum frontale poi cambio l'altro lato e rifaccio la contrazione quindi faccio 4 giri almeno 4-5 giri così tenendo dentro bene l'addome contraendolo forte e questo mi ha veramente cambiato ormai è parte della mia routine cerco di tenerla fatta perché ho visto che effettivamente mi ha portato tantissimi benefici a livello proprio di inspessimento di controllo dell'addome e di capacità di saperlo contrarre bene te lo cambia te lo cambia assolutamente oppure se non potete usare queste panchette semplicemente prendersi alla lat machine scusate alla barra delle trazioni e sollevare le gambe ecco classico leg resis e dovete proprio concentrarvi sul sentire questa forte sensazione di contrazione di squeeze in basso diciamo nell'addome tra virgolette basso questa alternanza di stretch and squeeze è quello che ti crea proprio questo espessimento a livello addominale esatto e questo quindi tutti i giorni oramai è da Natale che ho questa routine e mi sto trovando bene quindi l'addome è veramente migliorato migliorato tanto e finalmente ho diciamo quell'ispessimento che prima non avevo ecco questo l'ho trovato con questo esercizio qui secondo me ormai è un must piuttosto che magari qualche crunch quello sempre però il mio esercizo fondamentale per l'addome ormai è questo 3-4-7 da 20 se posso cambio l'inclinazione della panca quindi magari parto prima da un'inclinazione meno ripida man mano l'aumento finché non riesco a chiudere le 20 3-4-7 così ogni giorno insomma è un posto fantastico non devo più fare altro fantastico e facciamo la schiena la schiena qua è un po' come il discorso delle gambe è una cosa la schiena forse è anche più complicata delle gambe perché è un muscolo grosso e richiede di di lavorarla da tante incolazioni sicuramente una cosa che mi piace fare è sempre avere un esercizio dove lavori con la schiena libera quindi un t-bar piuttosto che un rematore quindi usi il lower back anche per stabilizzarti quindi mi piace sempre avere un esercizio completo fatto in questo modo che può essere il primo esercizio e poi sempre fondamentale almeno nella mia routine è una variante di stacco anche il giorno di schiena può essere uno stacco dai fermi quindi un rack pull piuttosto che un pin pull insomma dipende un pochettino da quello che ho in palestra da quale palestra in quale palestra sono però una variante di stacco la metto sempre questo perché mi permette anche di colpire un po' la schiena in toto diciamo con gli erettori piuttosto che il trapezio l'upper back i grandorsali insomma fa un po' tutto e quindi lo inserisco sempre non come primo esercizio lo tengo magari un pochettino più avanti nel corso dalla sessione può essere il terzo esercizio magari magari faccio primo un esercizio più relativo non so può essere un pull down secondo esercizio può essere una remata e poi una volta con la schiena tra virgolette già lavorata passa a colpirla completamente con un esercizio come gli stacchi per poi magari ritornare a degli esercizi più dedicati a particolari zone della schiena ecco però la schiena è veramente complessa quindi c'è tantissimi angoli di lavoro la potete lavorare però l'importante è cambiare nel corso del tempo un attimino l'angolo di lavoro lo stimolo che date lavorarlo magari più con delle diciamo nei piani verticali piuttosto che nei piani orizzontali prese larghe prese strette prese neutre prese sprone su pine insomma ce n'è veramente da sbizzarrirsi in questo caso una cosa che mi piace tantissimo è il pullover che è una cosa che pochi fanno ma che effettivamente il classico pullover purtroppo la macchina non ce l'ho quelle poche macchine che ho provato fanno tutte schifo quindi era veramente era una schifezza veniva non sentivo niente quindi il classico pullover che può essere pullover manubrio o pullover bilanciera anche addirittura pullover bilanciere magari con la presa in supina come la fa vedere Bennett c'è un video dove lui lo fa lo fa vedere con supanca declinata con la presa diciamo supina con un bilanciere z mi pare e se lo provate vi cambia il mondo veramente sembra una stupidaggine ma se tu lo provi a fare con questo bilanciere con la presa messa in quel modo lì quindi al contrario di quello che faresti tipicamente è fortissimo veramente è un esercizio bellissimo e che ancora una volta ti va a dare quel quid in più nella tua forma fisica prima parlavamo di polpace parlavamo di femorale parlavamo di gluteo secondo me il pullover è quell'esercizio che ti dà proprio quel tocco di qualità in più quando sei frontalmente fai un'apertura dorsale si vede se lo fai si vede si perché c'è un ottimo isolamento ti dà tanta tensione in allungamento quindi è clamoroso e poi si la presa ho capito la presa supina l'avevo pubblicato quando stavo in lockdown che aveva soltanto il bilanciere non avevo il manubrio e quindi avevo fatto quella variante bella 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 perché stai un po' più stretto con i gomiti esatto esatto è veramente fenomenale è una cavolata però ti cambia veramente l'esercizio comunque un esercizio che tendo a fare verso la fine della seduta lo chiamiamo esercizio di stretching se vogliamo però va secondo me cosa che cerco sempre di mettere nel dorso perché appunto mi dà quel saltino di qualità in più che altrimenti non riuscirai ad avere ecco sul dorso sulla schiena io la cosa che dico sempre è analizzate la vostra schiena e vedete ci sono sempre degli una carenza che può essere sul centro schiena piuttosto che sull'ampiezza sul gran dorsale e in funzione di quello direzionate il lavoro esattamente questo vale per tutti i distretti come dicevamo prima il discorso va sempre fatto sul soggetto sulle sue carenze sui suoi punti forti e sulla sua capacità di rispondere a certi stimoli piuttosto che ad altri quindi questo è veramente un discorso che vale la pena sottolineare quindi guardatevi osservatevi allo specchio cercate di capire come colmare determinate lacune per portarle alla pari dei vostri punti forti assolutamente è il bodybuilding è questo il bodybuilding no? non è vado in palestra mi sfascio ma è trovo l'armonia in modo intelligente del mio corpo cercando di portare tutti i distretti ad una certa armonia che sia bella da vedere quindi guardatevi sempre col che vi manca mi manca il centro schiena mi manca il grande orseale piuttosto che pori spinali non so quindi cercate di capire mi manca più la zona del trapezio questo è una cosa soggettiva quindi in base a quello vi fate degli allenamenti mirati magari cambiate nel tempo perché magari poi quella lacuna diventa tra virgolette bene un lacuna però poi ne vedete un altro purtroppo il bodybuilder fa sempre ok adesso mi focalizzo su questo poi nel frattempo ti accorgi che c'è un'altra che sta scappando c'è un'altra lacuna che si sta creando che allora aspetta lascia un attimo da parte questa vado a lavorare su quell'altra purtroppo è tutto una maessinopora fatta in questo modo non si finisce mai non si finisce mai però questo è il bello senti parlando del petto invece petto questo diciamo è un pochettino il mio punto debole ho sempre avuto parecchie difficoltà geneticamente ad avere un petto buono e quindi quello che ho capito funzionare bene su di me è uno eliminare la panca piana da quando è eliminata la panca piana la prima cosa che ho capito è stata quella quindi niente panca piana perché il feeling che avevo con questo esercizio era pare a zero quindi buttata via la panca e ho cominciato a usare l'eccess press purtroppo è brutto da dirsi però io da quando ho cominciato utilizzare certe c'era express focalizzandomi sullo squeeze in alto quindi sul fare una forte contrazione il mio petto ho cominciato a migliorare ho cominciato a migliorare e poi tantissime dips infatti il mio esercizio fondamentale non è non è la panca ma sono le dips che le mi hanno cambiato proprio anche per come ha fatto il mio petto per la conformazione del mio petto che ha bisogno di lavorare molto diciamo in basso e di lato le dips mi hanno dato veramente una una mano ecco e oltre a da fare tutti i tipi di fly anche qui il petto purtroppo cioè le fibre sono disposte in modi molto diversi quindi va capito come beccare determinati angoli per insomma utilizzare le fibre in un certo modo quindi il mio petto è un insieme di fibre messo un po' alla cazzo diciamo quindi non sono molto ben disposte diciamo geometricamente quindi devo cercare di lavorarlo da tantissimi punti di vista da tantissimi angoli per cercare di riempirlo bene quindi tante fly machine tante dips tante declinate tante inclinate in modo tale da pian pianino riuscire ad utilizzare tutte le fibre che sono disposte in modo un pochettino random e niente quindi è stato un lavoro duro però focalizzandomi tanto sulla tecnica tanto sullo squeeze sono riuscito a venirne fuori insomma questo è venuto fuori bene assolutamente sì guarda questo ci sta qua sempre lo stretch inforzato è importante preattivazioni le utilizzi tipo iniziare con un isolamento per poi andare sul compound no tipicamente per il petto no parto con l'esercizio diciamo madre mi scaldo bene faccio molti feeder set per cercare di avere una ottima connessione dopodiché parto e il petto è uno dei pochi muscoli dove sto a basso con le ripetizioni ecco una cosa che mi sono dimenticato prima di dire per il dorso invece è che cerco di stare relativamente alto perché ho notato che se sto basso con le ripetizioni per il back purtroppo rischio di utilizzare troppi altri muscoli accessori che non siano il back quindi i bicipiti piuttosto che strattonare piuttosto che insomma disperdi il carico in tantissime altre zone e quindi quello che ho quello che ho capito è che se io sto sulle 10 12 ripetizioni con un buon un buon peso ma che riesco a gestire bene senza fare delle mezze ripetizioni il spot ideale per per il back mentre per il per il petto anche se le ripetizioni ci stanno bene ecco le sento bene certo il petto tendenzialmente a stare più pesante quindi lavoro un pochettino invece il back non vado mai molto basso con ripetizioni se no magari negli stacchi però su altre cose tipo pulle piuttosto che rematori cerco sempre di stare sulle 10-12 almeno e cerco di avere identificare quando la ripetizione che sto facendo sto cominciando a rubarla quindi nel pulle puoi essere che non tocco più l'addome col triangolino o mi accorgo che effettivamente ho cominciato ad accorciare il rom allora in quel caso lì la smetto perché tanto so che comunque sto perdendo lavoro certo se tu fai un range di ripetizioni 10-12 questa cosa la capisci subito mentre con 8 ripetizioni con 6 ripetizioni magari ne fai 5 quando tu lavori sul range più alto hai più margine di lavoro hai più margine per capire lo senti arrivare un po' più sono bene o no arriva un po' più piano no ripetizioni tutte le cose bravissimo esatto esatto pensi a gestirti meglio questo discorso no? dici ok sono all'undicesima però alla dodicesima so che viene magari non viene perfetta al 100% di rom però lo perdi pian pianino no? il feeling mentre quando sono a basse ripetizioni 6 5 le fai e la 6 non la fai più capisci? quindi quando riesco quando sto sul range di ripetizioni è più più semplice lavorare hai più margine di lavoro come dico io no? assolutamente le spalle invece poi niente ci sono le spalle ma le spalle fortunatamente io sono a prevalenza rossa quindi con le spalle ci vado a nozze perché su di me crescono abbastanza bene le spalle la cosa importante da sottolineare è che le spalle non sono tanto faccio le spinte in alto ma è l'eltoide laterale e l'eltoide posteriore quindi il consiglio è quello di focalizzarsi sempre prima sul l'eltoide laterale o posteriore risposto che quello frontale che tanto comunque il giorno di petto insomma viene comunque poi anche qua il discorso è sempre quello di capire quali sono le tue carenze cioè tante persone per loro fortuna hanno delle spalle che crescono e quindi si possono permettere delle split dove le spalle magari vengono messe insieme al petto esatto e invece tante altre persone hanno bisogno di fare un lavoro dedicato mirato sulle spalle quindi anche qua bisogna capire un attimino la persona come è fatta il mio consiglio è quello di dedicare comunque sempre un giorno una settimana alle spalle dove comunque le spalle le fate come primo distretto ecco quindi già quando fate una push pull ex ad esempio il rischio è quello di sì è vero che aumenti la frequenza di lavoro però il rischio è quello di fare veramente poco lavoro su un distretto che comunque necessita anche di tanto lavoro quindi il consiglio è quello di dedicare anche un giorno speciale per i deltoidi magari unendolo ad un muscolo più piccolo secondario che passa il cipito il bicipite assolutamente anche i deltoidi vanno lavorati anche perché parli animo cicchiare il deltoide è una delle prime cose che vedi in un bodybuilder il fatto di essere ampio grosso con la spalla rotonda la noti subito in un bodybuilder e quindi assolutamente vanno lavorate anche qui altre ripetizioni un po' come con i polpaci diciamo quindi vanno vanno pure maltrattate altre ripetizioni lavori molto metabolici e perché tanto poi il lavoro pesante lo fate con le spinte quindi sul deltoide laterale e soprattutto su quello posteriore ci si può permettere invece di fare lavori ancora una volta protratti nel tempo con dei carichi medio leggeri dove a prevalere al bruciore e l'attacco quindi tante alzate laterali tante varianti di alzate laterali magari anche tra virgolette pesanti in alcuni casi ci possono stare però non troppo cittate ecco quindi roba sempre molto controllata una cosa che mi piace fare molto ad esempio le alzate laterali sono le stop reps quindi focalizzarsi molto sullo scendere riappoggio il manubrio al corpo riparto esplosivo cerco di fermarmi sopra allenato uno secondo riscendolo 10-12 colpi tirati uno dietro l'altro dove alla fine gli sporchi fare un lavoro molto di tipo cecchino no? un colpo alla volta scendi butti butti dentro l'aria respiri riparti pum riscendi altro respiro pum ne fai 10-12 così in modalità cecchino ecco questo mi piace e quale puoi fare relativamente pesante quindi con un 16-18 kg ce la fai a fare poi droppi e ripeti lo schema quindi ancora 10-12 con un peso più leggero ridroppi ancora 10-12 riesci a fare questa cosa qua in questa modalità molto modalità cecchino la chiamo quindi molto precisa questo veramente ti io una cosa che ho notato sulle spalle è che sono cambiate molto quando ho caricato tanto di lavoro il dettaglio posteriore soprattutto facendolo all'inizio perché di solito te lo butti là alla fine non c'è la fantasia invece io che mi ci metto all'inizio mi aiuta tanto sia quando faccio le sessioni di spalle sia prima del petto io adesso mi trovo bene prima del petto faccio 4 serie real death machine carico bene mi stabilizza meglio il movimento mi rende la sessione di push molto più proficua e mi ci dedico per bene quindi questo mi ha aiutato e poi per il toy del laterale è anche il discorso del lavorare con i cavi per avere tensione in basso perché normalmente nell'alzata laterale in basso non abbiamo tensione sì 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 la modalità lì stop reps proprio perché appunto riesco a concentrarmi e riparto però assolutamente come dici tu quindi tante volte quello che si può fare se non si hanno dei cavi di disposizione perché magari sia in home gym allora fare magari delle parziali iniziali quindi dove lavori il rom basso ma con tanto peso quindi non so prendi 18-20 kg e ti metti a fare una ventina di simil parziali esatto dopodiché droppi vai al peso diciamo da lì fai il movimento completo quindi questo è un'ottima combinazione nel caso in cui non ci fossero i cavi proprio per ovviare a quel problema che dicevi te di mancanza di tensione nel punto iniziale e un'altra variante molto carina è quella che faccio su panca inclinata quindi con la schiena sulla panca inclinata e quella ti dà uno stretching pazzesco sono le alzate laterali stando con la schiena appoggiata e quella è un'ottima variante secondo me non citi perché sei sdraiato e come tra virgolette ultimo esercizio ci sta perché permette di strecciare molto il deltoide esatto pure quella l'avevi pubblicata su instagram se non sbaglio quella si tende a pubblicare perché insomma non è un esercizio che si fa che si vede molto spesso però secondo me vale la pena provarlo infatti chi lo prova poi non lo molla più ecco assolutamente è molto diverso senti per le braccia invece che mi suggerisci perché io qua come per le gambe sto in primo piano come spettatore le braccia purtroppo ritorniamo un po' al discorso dei polpacci avere il vero bracione del bodybuilder non è facile perché proprio geneticamente avere un braccio grosso non è così semplice come potrebbe sembrare nonostante sia un buscolo piccolo avere il vero braccione da bodybuilder non è facile però quello che vedo è che il tricipite tendenzialmente lo usi molto quando fai il petto quindi quando tu fai il petto pesante fai dei pesanti già il tricipite è ben sollecitato quindi quello che puoi fare poi sono dei lavori un pochettino più alte ripetizioni che possono essere delle distensioni sopra la testa per cercare di utilizzare ancora il capolungo oppure un altro esercizio che mi piace molto che ultimamente sto facendo sono delle classiche push down dove però lo fai diciamo aprendo aprendo i gomiti quindi non so se ti ricordi quando Midas lo faceva la come si chiama la latta machine quella guidata quella con il contrapeso ricordi che lui faceva scendere verso il basso fantastico bravissimo non so come chiamarlo con gli esercizi però io lo faccio al cavo quindi con un triangolino piccolino e faccio esattamente lo stesso movimento quindi come una specie di compasso quindi porti i gomiti verso verso l'esterno e fai una specie di pompa quindi fai una up and down in quel modo lì tenendo le mani molto vicine fra di loro quello ti veramente ti da tanto spessore nel principio quello tanto e poi i classici estensioni dietro la nuca niente French press almeno nel mio caso perché sono un po' deleteri per i gomiti purtroppo per le articolazioni mi preferisco evitare certi tipi di movimenti e poi invece per i bicipiti eccentriche prolungate bruciore tanto bruciore si 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 anche le situazioni veramente controllate per i bicipiti tanto volume tra virgolette evitare se possibile i bilancieri assolutamente nel mio caso almeno evitare i bilancieri se i gomiti insomma ne risentono quindi sempre preferire i manubri un esercizio ottimo è la panca scott con il manubrio vedi fate un braccio alla volta vi concentrano su un braccio alla volta 10-12 ripetizioni è un esercizio che veramente cambia e un'altra cosa che sto notando è che veramente anche i bicipiti vanno lavorati tra tanti angoli diversi quindi può essere un un carle con la l'addome appoggiato sulla panca può essere un carle con la schiena appoggiata sulla panca può essere un carle dove state seduti con una pulle alta quindi fate una specie di è come quando fai crossovare i cavi però lo fai stando solo ad una sola carrucola quello ti dà una contrazione fortissima nel picco diciamo lo senti tantissimo comunque ecco anche i bicipiti vanno lavorati da tanti angoli non è solo carle in piedi ma è veramente una sfaccettatura di tante cose e il fatto di lavorare anche tanto l'hammer carle che magari tanti non lavorano però anche l'hammer carle contribuisce tantissimo ad arti lo spessore assolutamente il bragniale e anche lo stesso reverse grip carle esatto purtroppo sono esercizi che magari tanti si dimenticano perché vabbè facciamo il carle facciamo due tre esercizi di bicipiti magari tante volte gli esercizi sono anche ridondanti nel senso che si colpisce sempre la stessa cosa si crede di fare due robe diverse ma in realtà si fa sempre la stessa cosa però ecco ci sono delle cose ancora una volta che dicevamo che bisogna tenere in considerazione se si vuole fare quella qualità in più vanno tenute in considerazione certe cose quindi l'hammer carle piuttosto che il reverse grip assolutamente non vanno dimenticati se si vogliono avere certe qualità muscolare poi è chiaro c'è quello fortunato che cresce anche sollevando il peso invece c'è chi purtroppo ma nel mio caso ha bisogno di più lavoro metodico preciso le braccia sembrano facili ma purtroppo almeno nel mio caso conta tantissimo elemento muscolare e poi veramente avere il braccione non è facile purtroppo non è facile quello si è l'attaccatura tanto sai ma quelli atto è l'attaccatura che fa tanto nel mio caso purtroppo il vento muscolare è quello che è quindi mi serve molto più tempo per farlo venire fuori mentre il tricipite ci siamo fortunatamente ci siamo il bicipite purtroppo avendo un ventri corto risulta essere un pochettino più difficile da far venire fuori bene però pian pianino ecco insomma cerchiamo cerchiamo di trovare anche lì la strada però ecco sicuramente non fare cose troppo pesanti per i bicipiti perché si rischia solamente di andare a fare del cheating e di sfasciarsi e basta ancora una volta come dicevamo anche per i femorali e centri che controllate lavoro sostenuto nel tempo bruciore e tanta variabilità negli angoli io ho visto che cambiando tanto inserendo magari tanti esercizi con angoli diversi le cose cambiano cambiano molto assolutamente si riesce a dargli proprio quel salto di qualità e riempirlo bene sia diciamo in basso verso il gomito che verso la zona scellare bene abbiamo fatto tutto sono i trapezi quello l'abbiamo parlato facendo un po' la schiena tanti hanno paura di far i trapezi che tanti hanno paura di far crescere la gente di solito chiede ma come posso fare un esercizio che non mi faccia usare i trapezi con le spalle cioè la domanda è lecita nel senso che tante volte è vero di spalle tiri su più di trapezio che di spalla però secondo me il trapezio invece è un muscolo bellissimo da avere per un bodybuilder una maglietta tu cosa vedi vedi il trapezio vedi questa cosa che ti esce dal collo dici questo qua è un bodybuilder quindi secondo me il trapezio invece io lo voglio il trapezio anche perché poi lateralmente ti fa lo spessore tu ti guardi di lato e c'è il trapezio lo vedi o anche da dietro quando tu fai una doppia bicipiti il trapezio lo vedi e quindi magari non fare troppo lavoro di isolamento per il trapezio però essere consapevoli che va utilizzato nel corso di altri esercizi quindi quando fate le spalle lo utilizzate e benvenga che venga utilizzato quando fate le frontali se vi guardate di lato nello specchio lo vedete che si muove anche lui e quando fate gli stacchi necessariamente lo usate quindi magari qualche cosa a livello di scrollata qualche cosa a livello di face pull però fatelo non è un muscolo da evitare ecco secondo me anzi è un muscolo da avere no? perché dicevamo prima è un'armonia di tante cose no? e ti fa anche l'ampiezza se tu sei largo di spalle e comunque hai un bel trapezio questo contribuisce a renderti ancora più più aperto no? più ampio quindi secondo me fatelo assolutamente vuol dire che abbiamo fatto tutto sì dire che abbiamo toccato tutto dai ci siamo fatti un'oretta e mezza credo che i ragazzi saranno belli soddisfatti di di questa uscita lo organizziamo in un altro ah l'ultima cosa ci siamo dimenticati tu li fai? ci siamo dimenticati i tibiali io posso farli sì quando ho tempo non me li dimentico diciamo perché quelli soprattutto basse bf tutto soprattutto per chi deve gareggiare si vede lo vedi proprio il tibiale quindi cerco di tenerlo fatto con qualche sollevamento dalla caviglia però sì proprio perché dicevamo se si è bodybuilder si deve pensare a qualsiasi piccolo muscolo che sia nel corpo e portarli tutti ad avere un certo grado di sviluppo senza dimenticarsi nulla e neanche quelli purtroppo ci sono sono fatti assolutamente va bene vai mi sa che è venuto un po' troppo lungo no no ci sta ci sta assolutamente tanto i ragazzi sono abituati direi di organizzarne poi un altro quando sarà ci mettiamo d'accordo magari anche loro ci fanno sapere nei commenti che cosa vorrebbero sentire bene ti ringrazio Lu è stato un piacere sta chiacchierata grazie a tutti i ragazzi grazie a tutti ci vediamo alla prossima a presto ciao ciao